Dato che noi deboli, le vostre, leggi avete fatto e servi noi, quelle leggi non le obbediremo, dato che servire, dato che servire non ci garba più, dato che voi ora minacciate, con cannoni e con fucini noi, che cretiamo d'ora in poi da bestie vivere, peggio che morire. Dato che noi altri avremo fame, se ci lasceremo derubare, verificheremo che tra il pane buono, che ci manche noi, che ci manche noi, solo un vetro sta, dato che voi ora minacciate, con cannoni e con fucini noi, che cretiamo d'ora in poi da bestie vivere, peggio che morire. Buongiorno a tutte e a tutti, oggi continuiamo le nostre chiacchierate sulla Comune di Parigi nell'anniversario del centocinquantesimo da quell'importantissimo evento della storia della classe lavoratrice della classe operaia. Oggi leggiamo un testo scritto di recente, negli ultimi mesi, da Osvaldo Coggiola, un compagno insegnante all'Università in Brasile, all'Università di San Paolo, un testo piuttosto interessante che ci fa capire i prodromi di questa rivolta parigina. Che cosa ha portato poi di fatto a far scendere in piazza migliaia e migliaia di abitanti di Parigi a difesa di questa comune appena proclamata? Scrive Osvaldo Coggiola «Il primo cosiddetto governo operaio della storia è stato il prodotto della prima crisi provocata dalla guerra franco-prussiana, che ha scosso tutta l'Europa e oltre. La guerra franco-prussiana, infatti, si sviluppò tra il 19 luglio 1870 e il 10 maggio 1871, opponendo all'impero francese il Regno di Prussia, che ricevette il sostegno della Confederazione della Germania del Nord, di cui faceva parte, oltre che del Gran Ducato di Baden, del Regno di Württemberg e del Regno di Baviera. Bismarck, che aveva preparato un potente esercito ed era consapevole della precaria situazione dell'esercito francese, sapeva anche che se fosse stato attaccato dai francesi avrebbe avuto l'appoggio degli stati della Germania meridionale e, sconfiggendo la stessa Francia, non ci sarebbero più stati ostacoli al suo progetto di unificare l'Inter a Germania. Sappiamo che Bismarck aveva questo come progetto finale ed è importante ricordarlo questo perché non è che Bismarck non aspettasse dalla parte della Francia un attacco, ma Bismarck sperava che questo attacco ci sarebbe stato da un momento all'altro. Il problema è che per i francesi i consiglieri di Napoleone III gli assicuravano che l'esercito francese fosse in grado di sconfiggere i brussiani, il che avrebbe ripristinato la popolarità in declino dell'imperatore francese. Ma in effetti, poco dopo la dichiarazione di guerra, gli eserciti prussiani avanzarono in Francia, dilagando. L'efficacia dell'offensiva tedesca contrastava con l'inefficienza della mobilitazione militare francese. Le forze francesi furono espulse dall'Alsazia, mentre la divisione del generale François Achille Bazaine fu costretta a ritirarsi da Metz. Metz sarebbe la città di Metz, che in francese viene pronunciato Metz, ma in tedesco, in lorenese, anche viene pronunciato Metz. Un esercito guidato dallo stesso Napoleone III e dal maresciallo Patrice Mac Mahon cercò di liberare Bazaine, un veterano dell'avventura messicano del Secondo Impero, ma finì circondato da Helmut von Molke, il capo militare prussiano, il 31 agosto, dando inizio così alla battaglia di Sedan, che ha deciso poi il conflitto. Ricordiamo anche che la battaglia di Sedan è stata una battaglia disastrosa per vari motivi, motivi, soprattutto perché ha creato nella Francia del 70-71 un collasso anche a livello economico. Di questo naturalmente sappiamo anche che approfittarono gli italiani del nord per aggredire lo Stato Pontificio. Ma tornando alla battaglia di Sedan, il 1 settembre i francesi tentarono senza successo di rompere l'assedio prussiano, il 2 settembre Napoleone III, Mac Mahon e 83 mila soldati si arriesero ai tedeschi. L'imperatore fu catturato e umiliato, prima di andare infine in esilio. La guerra franco-prussiana era stata di breve durata e si è conclusa in un disastro per le truppe francesi. L'esercito prussiano ha pienamente dimostrato la sua superiorità nella leadership, nella tattica, logistica e addestramento. Le cifre del disastro francese sono queste. 3 mila soldati uccisi in una sola battaglia, 14 mila feriti, più di 80 mila prigionieri, tra cui 39 generali e lo stesso imperatore. La sconfitta di Sedan significò in definitiva la sconfitta dell'esercito, i profughi naturalmente scappati da Messe, profughi francesi e anche quelli dell'area di Parigi. L'occupazione di parte del territorio da parte delle truppe prussiane è stata vista come una umiliazione senza precedenti da parte della popolazione francese tutta. La notizia del disastro di Sedan ha sollevato la popolazione di Parigi. Il 3 settembre è scoppiata da una rivolta popolare che è continuata il 4 settembre, quando il popolo ha invaso la Camera dei rappresentanti chiedendo la caduta del regime. Sotto la pressione popolare l'impero fu rovesciato. La seconda rubrica fu proclamata, l'assemblea legislativa fu sciolta e fu formato un governo di difesa nazionale. Léon Gambetà, uno dei capi della rivolta, fu nominato ministro dell'interno e capo del governo provvisorio. Con la vicinanza delle truppe tedesche dovette lasciare Parigi in Mongolfiera e rifugiarsi in fretta a Tour, nella Francia occidentale, dove istituì un governo provvisorio. Le truppe prussiane si stavano mobilitando per attaccare Parigi, mentre il nuovo governo cercava di negoziare con Bismarck, il quale era irremovibile, accettando la fine della guerra solo dopo la consegna dell'Alsazia e della città di Messe, dove le truppe di Basin rimanevano ancora circondate dall'esercito prussiano. Senza cercare di prendere Messe, le truppe prussiane intraprese un assedio di cinque mesi alla capitale francese, imponendo un blocco alimentare con carestie e continui bombardamenti. A Tour, nel frattempo, Gambetà mobilitò più di 600.000 uomini, organizzando 36 missioni militari per liberare Parigi dall'assedio prussiano e ripristinare così la sovranità francese sul suo territorio. Ma una dopo l'altra, le incursioni francesi contro i prussiani fallirono. Nel dicembre 1870, l'esercito della Loira fu disperso a Luagny e nel gennaio 1871 subì un'ulteriore sconfitta aleman. Altri due eserciti francesi, uno da nord e uno da est, furono respinti rispettivamente a Saint-Quentin, in Svizzera e anche in Svizzera. In mezzo alle sconfitte ci fu la resa presentata dal marshalo Basin al comando di 173.000 soldati a Messe. La cosa avvenne il 27 ottobre 1870. La resa militare di Gambetà fu considerata un altro ritradimento contro la Repubblica, portandolo ad abbandonare il governo provvisorio. Seguì così un periodo di bombardamenti a Parigi e per 15 giorni case e forti parigini situati sulla riva sinistra della Senna furono puniti senza pietà dai pesanti proiettili della artiglieria prussiana. La capitolazione di Parigi avvenne il 28 gennaio 1871. Gli errori militari francesi portarono a una serie di sconfitte che ebbero come conseguenza il rovesciamento del nuovo governo provvisorio di Olivier e del suo ministero, sacrificati come capri espiatori. La maggioranza monarchica dell'Assemblea nazionale era francamente favorevole alla capitolazione nelle mani della Prussia. Nonostante la volontà del popolo parigino di resistere, l'Assemblea nazionale finì per affermare la pace con i tedeschi. I negoziati di pace furono ripresi dall'Assemblea nazionale riunitasi nel 12 febbraio 1871 a Bordeaux. Il 13 febbraio Gredi è stato nominato presidente della Repubblica e Adolf Thiers, politico e storico, è salito alla carica di capo del Consiglio dei Ministri. Alla guida del governo provvisorio Thiers era opposto a continuare la guerra e ha continuato poi di fatto a negoziare la pace alle condizioni dei prussiani. I negoziati di pace sono iniziati a Versailles il 21 febbraio e il 26 i preliminari di pace erano già stati firmati. Praticamente non c'è stata discussione. Il 1 marzo le truppe prussiane sono entrate simbolicamente a Parigi, la quale città non oppose più resistenza, lasciando la città completamente in mano ai prussiani. Il giorno successivo gli stessi prussiani, l'esercito prussiano evacuò la città. Nella classe operaia e nel popolo parigino aumentò però il fermento politico. Qual era la classe operaia francese del 1870? Il nostro amico e compagno Osvaldo Coggiola ci racconta adesso la situazione economica che c'era in Francia nel 1870. La classe operaia francese era concentrata nelle grandi fabbriche in alcune regioni, ma la piccola industria e l'artigianato erano numericamente e socialmente prevalenti. La Francia è rimasta un paese prevalentemente rurale. Tuttavia grandi imperi industriali già esistevano. Per esempio esisteva la fabbrica Chenadère che dava lavoro a 10.000 operai nell'industria metallurgica Lecrisot nel centro della Francia, in Borgogna. Vendel occupava circa 10.000 dipendenti nelle sue acciaglierie in Lorena. Le miniere di Anzat, ancora in Borgogna, hanno impiegato più di 10.000 minatori. La concentrazione era forte nelle grandi aziende metallurgiche, siderurgiche, tessili e chimiche. I cantieri navali di Parigi erano più di 70.000 laboratori, la maggior parte dei quali proveniente dalla provincia, in un flusso migratorio di proporzioni enormi, risultato del processo di concentrazione della proprietà della terra negli anni precedenti. Nel 1866 c'erano ufficialmente 4.715.000 persone impiegate nelle fabbriche e nell'industria, ma solo un milione e mezzo di lavoratori lavoravano in aziende con più di 10 persone. La concentrazione industriale era stata rapida durante il regime bonapartista, ma limitata ad alcuni rami industriali e ad alcune regioni geografiche, per esempio Parigi, il Nord, la Lorena, la Bassa Senna, Lione, la Borgogna. I cannoni di Montmartre vengono protetti da membri della Guardia Nazionale. Dei 37 milioni di abitanti della Francia, più di 25 milioni erano ancora nelle campagne. Le piccole imprese erano la maggioranza nel settore. Parigi aveva una popolazione di 2 milioni di abitanti. La nuova divisione amministrativa, dal 1859, li raggruppò in 20 distretti, o a Rondisma, con 442.000 laboratori in città nel 1866, arrivati a 550.000 nel 1872. In soli sei anni erano cresciuti di un quarto. Il loro numero crebbe e anche alla loro concentrazione. Il numero dei datori di lavoro è passato da 65.000 nel 1847 a 39.000 nel 1872, il che significa che c'è una altissima concentrazione nelle mani sempre di sempre un minore numero di padroni. C'erano soltanto alcune aziende con migliaia di dipendenti. Per esempio, Carl, nella metallurgia, impiegava più di 2.000 lavoratori. Gouin, costruzione di locomotive, più di 1.500, così come Gévelo. La maggior parte delle aziende metallurgiche, tuttavia, impiegava da 10 a 50 lavoratori. Nelle professioni tradizionali, come il testile, della calzatura, l'artigianato, predominava la piccola industria artigianale. C'erano tre grandi case di produzione di scarpe a Parigi. Comunque la guerra, incubatrice e acceleratore sociale, fece precipitare la rivoluzione. Le scadenze, ritmi politici e sociali subivano così un'accelerazione. Dopo la sconfitta francese, per esempio Blanchy creò un giornale la patria en danger, la patria in pericolo, per sostenere la resistenza di Gambetta contro i prussiani. Partecipò anche Blanchy alla rivolta del 31 ottobre 1870, occupando per alcune ore il municipio di Parigi. Ma fu poi arrestato alla vigilia della comune nel marzo del 1871, condannato alle deportazioni dal governo di Adolf Thiers e fu internato a Clairvaux nel carcere a causa delle setà, aveva già 66 anni. Blanchy visse in carcere l'episodio della comune. I comunali tentavano inutilmente di scambiare la sua libertà con quella di diversi prigionieri dei rivoluzionari. Il 4 settembre, lo stesso giorno della proclamazione della Seconda Repubblica, siamo sempre nel 1870, la sezione parigina dell'Associazione Internazionale dei Laboratori, la prima internazionale, ha tenuto un incontro con la Camera federale delle società lavoratrici, decidendo di non rovesciare immediatamente il governo republicano, ma definendo la lotta con una serie di richieste, tra cui l'immediata abolizione della Polizia Imperiale, la soppressione del capo della Polizia Governativa a Parigi, l'organizzazione della Polizia Municipale, l'abrogazione di tutte le leggi contro la stampa e contro i diritti di riunione e associazione, l'immediato armamento dei lavoratori e l'arruolamento in massa per contrastare l'offensiva prussiana. Per garantire la lotta e per monitorare il governo hanno anche proposto la formazione del Comitato di Difesa Nazionale Republicano Centrale delle 20 Regioni di Parigi, che è venuto così a coesistere con il governo, creando una situazione di doppio potere. Le risoluzioni operali dei settembre hanno anticipato gli sviluppi imminenti e hanno gettato le basi per una situazione di doppia amministrazione nella capitale e potenzialmente anche nell'intero paese. Il 28 gennaio 1871 il cancelliere prussiano Bismarck e Jules Favre, rappresentante del governo di difesa nazionale francese, firmarono una convenzione sull'armistizio e la capitolazione di Parigi. Favre, a nome dei francesi, accettò le umilianti richieste avanzate dai prussiani, tra cui il pagamento entro due settimane di una prima indennità di 200 milioni di franchi, per mantenere soprattutto l'esercito prussiano, la resa di gran parte dei forti di Parigi e la consegna dell'artiglieria da campo e delle munizioni da parte dell'esercito parigino. Adolf Thiers, capo del governo, definito da Karl Marx quel mostruoso gnomo che ha sedotto la borghesia francese per circa mezzo secolo perché è l'espressione intellettuale più completa della propria corruzione di classe. Comunque, Adolf Thiers, dato che Parigi è pesantemente armata e in armonia con l'accordo con la Prussia, ordinò ai soldati francesi di confiscare tutte le munizioni della città. Per il trattato tra Francia e Germania, firmato a Versailles il 26 febbraio da Thiers et Favre da parte della Francia e dal cancelliere Bismarck da quella della Germania, la Francia ha dato alla Germania l'intera Alsazia, la regione dell'Alsazia, e la Lorena orientale e avrebbe pagato un'indennità di 5 miliardi di franchi, ben 5 miliardi di franchi. Lo sforzo e il surplus nazionale francese sarebbero stati così compromessi per più di un decennio. A Parigi, prima della fine dell'assedio prussiano, fu tentata una nuova organizzazione della Guardia nazionale e questo è un dato importantissimo. La Guardia, in pratica, era il popolo armato di Parigi, era formata da 300.000 a 350.000 uomini in armi da quando fu lanciato l'arrollamento generale nel 1870, dopo le prime sconfitte francesi. Aveva nominato i suoi ufficiali in ogni battaglione, ma il comando generale è stato nominato da governo. Il 15 febbraio 1871 i delegati dei battaglioni di 18 quartieri parigini si incontravano in una grande sala parigina. Fu nominata a una commissione di 20 membri, incaricata di redigere una bossa di statuto. Una dichiarazione dei principi riconosceva la comune rivoluzionaria della città come unico governo. Fu redatto una dichiarazione dei principi nella notte tra il 22 e il 23 febbraio 1871. Tra l'altro, in questa dichiarazione dei principi si concludeva non ci saranno più oppressori e oppressi, non più distinzione di classe tra cittadini, non più barriere tra i popoli. La famiglia è la prima forma di associazione e tutte le famiglie si orineranno in una unica entità più grande, la patria, e da questa in una personalità collettiva superiore l'umanità. In conseguenza di ciò, il 3 marzo, un'assemblea di delegati di 200 battaglioni della Guardia nazionale ha fondato la Federazione Repubblicana della Guardia nazionale, votandone lo statuto e nominando un comitato esecutivo. Fu costituito anche un comitato centrale della Guardia nazionale. Comunque, nel ventre della crisi nazionale, scrive Coggiola, è nata la rivoluzione sociale. Parigi era pesantemente armata, circa 500.000 fucile e 417 pezzi di atelieria di vario calibro, 146 mitragliatrici, 271 cannoni. Come disinnescare tutto ciò? Come sbarassarsi dalla Federazione del suo comitato centrale? Come controllare la Guardia nazionale? Il governo di Thier aveva già compiuto dei tentativi localizzati per togliere i cannoni dalle mani della Guardia nazionale, senza altro risultato che irritare, come sappiamo, la popolazione, che considerava dei cannoni propri. Erano stati comprati grazie a collette e donazioni popolari. Il 17 marzo il governo ha lanciato un appello alla popolazione parigina, mettendola in guardia contro certi malvagi che rubavano cannoni allo Stato. Si erano autoprogrammati signori di parte della città, esercitavano la loro dittatura attraverso un comitato nascosto, inteso a formare un governo in opposizione al governo legale istituito a suffragio universale. Il manifesto del governo terminava chiamando i buoni cittadini a separarsi dai cattivi. Ma nella notte tra il 17 e il 18 marzo il governo ha pubblicato un altro appello, di contenuto analogo, rivolto specificamente alla Guardia nazionale. Contemporaneamente aveva intrapreso un'operazione sulla Grascala con 15.000 soldati, con la specifica missione di riprendere i cannoni custoditi nei quartieri di Montmartre e Belleville, il cosiddetto bastione rosso di Parigi, e nell'occupazione dei quartieri di Saint Antoine e Bastiglie. Il governo aveva deciso di appropriarsi dei cannoni che difendevano Parigi, provocando così una rivolta popolare. La popolazione parigina lanciò un allarme, prese il controllo delle strade, circondò le truppe che avrebbero dovuto svolgere il compito. Due generali furono stupido arrestati e fucilati. Sotto pressione, le truppe hanno fraternizzato con la gente e si sono rifiutate di sparare alle persone per strada. Thiers, con tutto il suo gabinetto, si ritirò alla regia di Versailles, lasciando un vuoto di potere. A mezzanotte dello stesso giorno il comitato centrale della Guardia nazionale si è riunita all'Hotel de Ville, il quartiere generale della prefettura di Parigi, oltre che la sede del comune di Parigi. A sostegno del rifiuto della popolazione parigina e consegnare i canoni di Montmartre e della grande mobilizzazione che questo ha scatenato, un governo rivoluzionario è stato formato dai rappresentanti di quartiere della Guardia nazionale. Il primo proclama della Guardia nazionale, del comitato centrale della Guardia nazionale, era favorevole all'abolizione una volta per tutte del sistema di schiavitù salariale. Il comitato centrale della federazione di quartiere ha preso il posto dell'autorità e si è installato nell'edificio municipale. Nella rivolta di marzo le categorie più attive dei lavoratori parigini sono state però quelle dei metallurgici e dell'edilizia, oltre che ai giornalisti, agli insegnanti e a tante altre categorie. Così la guerra franco-brussiana culmina non solo con la creazione della nazione tedesca, ma anche con l'esplosione della comune di Parigi. Tutto ciò naturalmente ha avuto una conseguenza, una repercussione enorme, non soltanto per il popolo francese, ma anche per il movimento internazionale, il movimento socialista internazionale, per la prima internazionale e anche ovviamente come modello per tutti i popoli del mondo. Per oggi abbiamo terminato qui, ci risentiamo, grazie per l'attenzione, alla prossima puntata. Grazie per l'attenzione, alla prossima 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 Grazie per l'attenzione, alla prossima